Uno dei motivi per cui si è interrotto il Consiglio Comunale è che sullo sfondo c'era l'impasto della Giunta, Sindaco. No, no, non c'entra nulla col Consiglio Comunale, assolutamente. Invece c'è il tema di alcuni cambiamenti che sto definendo, che annuncerò venerdì prossimo con una conferenza stampa alle 12.30 a Palazzo San Giacomo. Non posso far prima perché domani sono in partenza per Rimini dove c'è l'Assemblea Nazionale dei Comuni Italiani. Devo definire alcune ultime cose, ma non riguarda solamente la Giunta. È un intervento importante di rilancio complessivo dell'attività politica e amministrativa. Quindi c'è un giro di boi importante che avverto con tanta responsabilità, con tanta motivazione e coinvolgerò tutti, dalla Giunta al Consiglio Comunale, ai miei collaboratori, in una fase che non è solo amministrativa, ma anche molto fortemente caratterizzata da una rigenerazione politica di tutta la coalizione. Il nuovo progetto politico, quello che chiedono molti nella maggioranza, è soprattutto questo, capire quale sarà il nuovo progetto. Grazie a tutti.